Probabilmente la performance di LVMH nel 2022 è stata niente di meno che inaspettatamente spettacolare, riflettendo sulla moltitudine di sfide macroeconomiche che hanno messo sotto pressione la domanda di beni di lusso, inclusi blocchi dovuti al covid, in Cina e il crollo del mercato delle criptovalute. Come per il periodo pandemico anche questo anno appena passato, mi sarei atteso tutto che fosse magari andato a crollare come per i vari mercati, invece mi sbagliavo. Evidentemente le persone benestanti non sono state minimamente toccate dalle varie vicissitudini e hanno deciso di continuare a spendere nel lusso. Ciao a tutti e bentornati sul canale IoRisparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario IEF ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto appunto nella descrizione. All'inizio di agosto 2022, nonostante le sfide macroeconomiche che chiaramente non erano favorevoli al lusso, nessuno penso avrebbe mai scommesso un euro sul fatto che nel 2022 quello di LVMH sarebbe stato rosio. Perlomeno non io, pur considerando questa azienda una delle top 3 europee in cui investire. Ci ho fatto anche un video al riguardo. Invece da allora agli investitori della società ha praticamente regalato un guadagno di circa il 21% del valore delle proprie azioni. Riflettendo su una probabile espansione dell'EPS nel 2023, sullo sfondo di un probabile aumento della domanda ancorato appunto alla riapertura del covid in Cina, insieme a una prospettiva macroeconomica e miglioramento a livello globale, a mio parere Louis Vuitton, Moe, NC e LVMH ancora ha possibilità di stupire molti, questa volta magari in maniera molto ma molto più consapevole. Ma anche guardando oltre il boom della riapertura in Cina, così come ho detto anche per Ferrari, si dovrebbe considerare che il mercato del lusso rimane in un trend di crescita strutturale, con un mercato che dovrebbe appunto crescere a un CAGR di circa il 4% o il 5% circa, fino al 2025, il doppio della crescita nominale del PIL. E con questo quadro di riferimento la strategia di lungo termine del gruppo LVMH rimane ben posizionata per catturare un maggiore potenziale di mercato indipendentemente dalle fluttuazioni cicliche. O come ha commentato il Chief Financial Officer, il CFO dell'azienda Jean-Jacques Quignot, lavoriamo sulla desiderabilità dei nostri marchi in modo che possano esistere alle recessioni e abbiamo imparato ad essere flessibili in caso di crisi se queste si materializzino. I forti risultati dello scorso anno, nonostante la guerra in Ucraina e le sfide in Cina, mostrano la resilienza e la permanenza di consumatori di russo e la forza dei marchi che abbiamo. Questo è quello che ha dichiarato appunto il CFO di Louis Vuitton Moua NSI. Nell'esercizio 2022 LVMH ha registrato ricavi totali per 79.2 miliardi di euro e utili da operazioni ricorrenti per circa 21.1 miliardi di euro. In particolare entrambi i parametri sono aumentati del 23% circa su base annua, evidenziando non solo la domanda e la residenza della crescita per il gruppo, ma anche un eccezionale potere di determinazione dei prezzi alla luce delle forze inflazionistiche che tutti stiamo vivendo. Il Free Cash Flow FCF operativo anno di Louis Vuitton Moua NSI è stato pari a 10.1 miliardi di euro, il che ha consentito alla società di ridurre l'indebitamento finanziario netto di 400 milioni, portandolo a 9.2 miliardi nonché di aumentare del 20% il dividendo per i propri azionisti. I diversi settori hanno già mostrato la loro attitudine a performare sempre nel mercato. Pur avendo le dinamiche cinesi ed ucraine nel 2022, ad esempio il settore Wine and Spirits ha fatto segnare un più 24% rispetto al 2021. Questo come dicevo prima indica un trend che non viene impattato da molte dinamiche come può essere e come può accadere per i comparti più classici, anche se a dirla tutta è proprio il mercato asiatico guidato dai lockdown cinesi che è stato l'unico in caro, con una contrazione del 5% del fatturato che fino al 2021 pesava il 35% del totale, mentre nel 2022 si è attestato al 30%. Questo fa meglio sperare per il 2023 considerando che la Cina ha eliminato completamente la sua politica di chiusura attuata appunto dalla zero tolerance sul covid. Ma a prescindere da ciò ogni singolo segmento ha segnato crescite a doppia cifra del fatturato. Prima citavamo il Wine and Spirits ma anche il Fashion and Leather ha riportato un più 25% e poi anche il Perfumes and Cosmetics con un più 17% e il Watches and Jewelry il più 18%. Anche il Selective Retailing ha segnato un più 26%. In questo contesto il cambio evoluta come dichiara anche Louis Vuitton ha aiutato il gruppo con un più 6% sul totale. Anche i profitti sono aumentati dal 2021, il margine lordo è passato da quasi 49 miliardi a 54.2 miliardi con un aumento del 24% portando il profitto netto di gruppo nel suo complesso e per cui in maniera trasversale fra tutti i settori ha un più 17% da 12 miliardi del 2021 ai 14 miliardi del 2022. Per quanto riguarda il denaro presente in azienda in particolare il free cash flow l'azienda ne ha a disposizione poco più di 10 miliardi anche se in questo è in calo dai 13 miliardi e mezzo del 2021. Si tratta di una porzione di cash non indifferente ma pur sempre in calo e comunque ricordiamo che è stata utilizzata in parte anche per ridurre l'indibitamento totale. In questo contesto aiuta anche a capire che il debito è in calo dai 9.6 miliardi nel 2021 ai 9.2 miliardi nel 2022 per un calo del 4%. La percentuale di debito si è impennata nel 2021 rispetto al passato e Louis Vuitton, Moet, Enesi sta riportando i conti nella giusta direzione. Parliamo poi dei nostri tanto amati dividendi che a parte una flessione leggera registrata nel 2019 dal 2017 ha sempre visto un aumento passando dai 5 euro d'azione del 2017 ai 12 euro per azione del 2022 o perlomeno questo è quello che verrà proposto il 23 aprile al meeting generale degli azionisti di Louis Vuitton, Moet, Enesi. Sui 5 anni a prescindere dalla flessione del 2019 l'azienda ha fatto crescere il proprio dividendo con una media del 19% su base annua. A mio parere Louis Vuitton, Moet, Enesi è un'azienda da tenere in portafoglio perché come citavo anche per Ferrari non vende beni di consumo ma beni di lusso, vende esperienze che le persone vivono appunto come tali e non come oggetti, come identificarsi con uno status simbolo come un mezzo per provare qualcosa e farsi sentire diverso rispetto agli altri e la grande diversificazione di marche e di settori e la politica di acquisizioni mirate sta portando sempre più benefici a Louis Vuitton, Moet, Enesi. Bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video se il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore la cortesia di farmelo capire lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e per la mia soddisfazione personale. Lasciami anche un commento e dammi le tue impressioni in merito a Louis Vuitton, Moet, Enesi, LV, Mh per chiamarlo in maniera più corta. Se poi sei nuovo sul canale non vuoi perderti nessun contenuto successivo, ti restano solo due versioni da fare, iscriviti e cliccare la campanella delle notifiche in modo che ogni nuovo video pubblicato ti sarà notificato. Bene anche per oggi è tutto e nient'altro ci vediamo al prossimo video, ciao a presto! Ciao a presto!